Recording, ok Ok Allora Condivido Dunque Dovreste sentirmi E dovreste anche vedere La condivisione dello schermo Quindi se qualcuno Come sempre sulla chat mi dice solo che Effettivamente si sente qualcosa Vi ringrazio Grazie, perfetto Quindi siamo La nostra solita video chat E se avete dubbi o domande Volentieri Se scrivete sulla chat Rispondo Copiando la domanda Così tra l'altro Non abbiamo problemi Diciamo così Di privacy Sul nome Di chi ha fatto la domanda Eccetera Perché qualcuno mi ha fatto rilevare Che se lo metto poi su youtube Rimane visibile a tutto il mondo Insomma Però avete comunque La registrazione Nell'area privata Del portale Della didattica Comunque Con questo sistema Possiamo pubblicarle Senza Senza fare i nomi Diciamo così Oppure Potete anche Aprire il microfono O La condivisione schermo O quello Insomma Che desiderate Per Diciamo andare a Fare la domanda Questa volta ho creato La virtual classroom Abilitando Credo Di default Tutti il microfono La webcam Quindi Se volete usarla Dovreste poterlo fare Direttamente Posso Abilitarla La mia webcam Se Volete Così resta Un pezzettino Nella registrazione Ma Insomma L'unica cosa Che guardo Su un secondo schermo Quindi Sembra che guardi Da un'altra parte Se avete dubbio Di domande Possiamo iniziare Dubbi su qualsiasi cosa Incluso il laboratorio Ok Di tipo Domanda di tipo Organizzativo Quante settimane Ancora Avremo E come saranno Strutturate Ok Giustamente Dunque Abbiamo Dunque Andiamo Sicuramente avanti Fino Fino al termine Del calendario Didattico E quindi Abbiamo Lezione Fino Fino a metà giugno Abbiamo Recuperato Diciamo La settimana iniziale Che avevamo Perso E quindi Dovremmo essere Più o meno In pari E Arrivare Giusti Appunto Ai 6 Crediti Considerando le ore Di lezione Laboratorio Queste come sempre Sono Come dicevamo Sono ore Diciamo Extra Nel senso Che Servono Per Per voi Per avere la possibilità Di fare domande Che La possibilità Che avreste in aula Diciamo così Che ovviamente Con le lezioni Preregistrate Non avete più Comunque appunto Non spieghiamo Niente di nuovo Quindi in questo caso Non c'è Non ci sono Nuovi concetti Eccetera Sono chiarimenti Come se qualcuno Si fosse fermato Dopo la lezione Eccetera O prima Dunque Come saranno Strutturate Dunque Noi andiamo Avanti Adesso abbiamo Ancora Tre Cinque Settimane Davanti Quindi Presumibilmente Dico Presumibilmente Nel senso Che Sappete Che è il primo anno Che eroghiamo Il corso Quindi Qualche piccola Variazione Ci sarà Ancora Possibile Però Sostanzialmente Avremo Almeno tre Settimane In cui Faremo ancora Della Diciamo così Nuova teoria E nuova teoria Intendiamo React Quindi Argomenti Da conoscere Di React Per ora Abbiamo visto Solamente Come gestire Le properties E accennato A qualcosa Dello Stato Prossima settimana Parliamo meglio Dello Stato Del Context Quindi Quello che Diciamo Serve a passare Delle informazioni In maniera Un pochettino Più comoda Rispetto alle properties Quando coinvolgono Tanti componenti Parleremo Parleremo Di come Gestire I form Poi faremo Qualche cenno Solo Cenni Su Meccanismo Dell'autenticazione Che non è Proprio di React Ma qualcosa Che ci serve Nelle applicazioni Web reali E Il course Di nuovo Qualche cenno Giusto per Che nel momento In cui avete Due server Andate a recuperare Delle informazioni Da server diversi Dovete gestire Questa piccola Problematica Che E quindi bisogna Bisogna avere almeno Dieci minuti Un quarto d'ora In cui Spieghiamo Qual è la problematica E come La possiamo affrontare E poi Mi fate prendere Magari Il documento In cui abbiamo Una specie di bozza Di questi Di questa cosa Dunque No Ho spegnato File Ok Quindi Questo per La prossima settimana Quindi dicevamo Stato e forma E poi da qualche parte Inseriremo Le questioni Appunto Di autenticazione E di course Quando Quando sarà necessario Per avere più server La settimana dopo Parleremo Sostanzialmente Di Gestione Centralizzata Dello stato E Sostanzialmente Dovremmo Essere In grado Di arrivare A costruire La nostra Applicazione Completa Dei task Anzi La vostra Dei task E Diciamo così La nostra Dei voti Nella settimana Dopo Faremo Parleremo Degli Ux Che sono la maniera Di usare Diciamo Funzioni Addizionali All'interno Di react Senza Dover Definire Delle classi Ci consentono Di andare A gestire Lo stato Eccetera In maniera Differente Da come abbiamo Visto finora Cioè con L'oggetto All'interno Del This state Nella classe E Questo Ci dovrebbe Facilitare Parecchio E diciamo È l'ultima Moda Nel senso Di Come vengono Sviluppate le cose In react React è un framework Che viene sviluppato Parecchio E quindi Da un anno All'altro Le cose Magari Cambiano E cambiano In maniera Anche un po' Significativa Però Non è che vogliamo Correre dietro All'ultima innovazione Ma comunque Sono un modo Diverso Di gestire I componenti E che forse Da un lato È quasi Più semplice Di quello Delle classi E per questo Che nonostante Questi Ux Siano Recenti Ci teniamo A farvi vedere Qualcosa E Nella Penultima Settimana Sostanzialmente Direi che Andremo A parlare Diciamo Di router Router Inteso Come i router Delle applicazioni Single page Application Cioè la possibilità Di gestire Sostanzialmente Diverse viste Dell'applicazione Che corrispondono A diversi url Sulla barra Del browser La barra di navigazione Del browser E poi E poi Nell'ultima settimana Sicuramente La lasciamo Libera Cioè libera La lasciamo occupata Da esercizi Quindi In vista Di Un esame In cui si dovrà Creare Un progetto Quindi un'applicazione Web Diciamo così Da zero Secondo le specifiche Ma in realtà Ovviamente Partirete dagli esempi Che abbiamo visto Durante il corso Ma andranno solo Adattati Alla specificità Della richiesta Del progetto Chiaramente Ci teniamo A farvi vedere Degli esempi Di Applicazioni Ben fatte Che usano Tutto In varia misura Quello che abbiamo visto All'interno del corso Quindi questo è Più o meno Il programma Delle prossime Cinque settimane Quindi se avete Dubbio o domande Riguardo a questo Domande più specifiche Volentieri Cerco di rispondervi Per quanto Diciamo Sappiamo Ad oggi Quindi Ando via Mi fai Prego Quindi magari Riguardo all'esame Non abbiamo Informazioni Ulteriori Però ne abbiamo Già Discusso Diciamo A breve Verranno Pubblicate anche Le forme Di esame In maniera Ufficiale Credo Sul portale Della didattica Perché C'è stato Richiesto In questi giorni Di comunicare Che cosa Si intendeva Fare Quindi immagino Che da qualche parte Comunque Ci sarà anche Un'indicazione Ufficiale Probabilmente Come nota Aggiuntivo A qualcosa Di questo tipo Alla scheda Del corso Perché Diciamo Informi Che in questa Situazione Gli esami Si svolgeranno In questa In questa maniera Sarà un'indicazione Generica Probabilmente Per questo corso Ci sarà scritto Orale Ma orale Sostanzialmente Vuol dire Che ci sarà Come Diciamo Abbiamo già Detto più volte Da sviluppare Questo progetto Per conto vostro Nelle Due o tre settimane Prima Della data Dell'appello Che intendete Sostenere Sarà da consegnare Con una modalità Che adesso Non lo so Prepareremo In qualche maniera Da sottomettere Su un sito Da mettere Su github Non lo so Github Classroom Non pubblico Da consegnare In qualche maniera Lo guarderemo Daremo Una valutazione Iniziale E poi Ci sarà Da discuterlo Con voi Prima di tutto Per assicurarci Che l'abbiate Fatto voi E per discutere Nel momento In cui Diciamo Siamo ragionemente Sicuri Che l'abbiate Fatto voi Come Capiterà Nel 99,9% Dei casi Ci sarà La discussione Che verterà Sostanzialmente Sulle motivazioni Che hanno spinto Ad adottare Certe scelte Piuttosto che Altre all'interno Del progetto O se uno Dovesse Estenderlo In una certa maniera Eccetera Come potrebbe fare Senza mettersi A scrivere codice Perché chiaramente Non avremo tempo Di fare questo Che è quello Che avremmo Voluto Fare In presenza No però Diciamo Se uno conosce La struttura L'organizzazione Del suo codice Dovrebbe risultargli Relativamente Facile Capire Se una nuova Funzionalità Potrebbe essere Inserita Dove potrebbe Essere inserita Come potrebbe Essere inserita E così via Quindi questo È Diciamo Quello che Intendiamo fare Nelle prossime Cinque settimane Che sono quelle Che restano Trovate Trovate In parte Il sito Che Cerco di Aggiornare Anche se Non è sempre Aggiornatissimo Non ci sono Gli argomenti Le lezioni Questo mi rendo Conto Noi siamo Oggi Qui 7 maggio Comunque avremo Questa organizzazione Che andrà avanti Sostanzialmente Fino alla fine Del corso C'è solo più La festa del 2 giugno Ma mi sembra che sia Un martedì E quindi Non ci tocca Meglio Tocca a noi Nel senso che Probabilmente Vedremo le feste Per Creare le lezioni Però Diciamo Non tocca a voi Nel senso che Non è che Abbiamo una Sospensione Per esempio Come caputato Il primo maggio Della video chat Anzi Del laboratorio Che abbiamo spostato Il 22 maggio Ci sarò io Però a voi Non cambia niente Nel senso che Nella prima squadra Ci sarò io Come nella seconda Perché Luigi De Russis Ha un impegno Ufficiale Col Politecnico Non può Fare questa Prima squadra Ma comunque Questi sono solo Dettagli Che Diciamo Mi interessano Fino a un certo punto Ok Se ci sono altri Dubbi o domande Volentieri Rispondo Scrivete sulla chat Prendete la parola Direttamente Dovreste poterlo fare Se non funziona Mi dite Provo ad abilitarlo Sul Sulla Sulla chat Della Virtual Classroom Come sapete Trovate gli esempi Su Github Quindi Github .com L'ultimo Che abbiamo fatto Vedere React Scores Questo sarà Un esempio Ve lo faccio Vedere adesso Perché Voglio sottolineare Che sarà Un esempio Che Ci porteremo Avanti Appunto Per due o tre lezioni Due o tre settimane Anzi E quindi Dovete sempre Fare attenzione Alla storia Nel senso Che se qualcuno Di voi Fosse un po' In ritardo Nello studio Per qualche motivo Nel seguire Le lezioni Nel momento In cui accedete In questa maniera Direttamente Col clic Sul reposito Ritrovate L'ultimo codice L'ultima implementazione Quindi Entriamo Che so In src E Ci sarà L'ultima L'ultima Versione Del file Che è quella Che vediamo Anche nel Visual studio Code Nella Nella Registrazione Però appunto La prossima settimana Ci sarà una nuova Versione Come fate Ad accedere Alle versioni Vecchie E' banale Basta cercare Un po' Su internet Se uno Non è pratico Con github Comunque Se siete Sulla pagina Iniziale Del repository Ci sono I commit E basta Andare Sui commit E Andare a Prendere Il repository Al punto In cui ci interessa E quindi Aprirlo qui Per esempio Questo è L'ultimo Chiaramente E Se cliccate Che so Tanto per fare Un esempio Clicchiamo su questo Che non è l'ultimo Così La prossima settimana Ci sarà Il nuovo Pezzo Quindi ci sarà Un po' Di gestione Degli eventi Dello stato Eccetera Presumibilmente Faremo funzionare Il form E quindi ci saranno Dei nuovi Commit Commit E' una nuova Versione Del codice E quindi Nel momento in cui Vorrete tornare indieta Per vedere la versione Di questa settimana Cliccate Sul Commit Che vi interessa Vedete che non siete Più All'ultimo livello Ma ogni Commit Ha un suo Identificativo E potete O scaricarvela Questo clona Clona tutto Però potete Diciamo Almeno Vedervela Quindi se aprite Il source Qua Vedete La versione Diciamo Passata Alcuni Commit Sono Adesso arriva La domanda Alcuni Commit Sono Banali Nel senso Che Tipo appunto Ci siamo dimenticato Di mettere Il keys Sugli option L'ho segnalato A professor Corno E allora Riaggiunti E basta Quindi ci sarà Solo quella variazione Tra l'altro Potete anche vedere Le variazioni Facilmente Quindi E basta esplorare Un po' Quest'interfaccia web Vedete che C'è chi In più E questa è l'unica cosa Che è cambiata Nel commit Invece In altri Ci sono delle modifiche Sostanziali Che ci portano avanti Con lo sviluppo Ok Una domanda In merito Alla gestione Dei file Classi Quindi allora La copio qui Quest'ultima parte Non ci serve Per l'ultimo Laboratorio Gestione File Classi Nella soluzione Proposta Potrebbe commentare La scelta Di creare La classe Filter Perché nel costruttore In pratica Non c'è nulla Quindi si esporta La classe Per avere accesso Alle funzioni Dunque L'ultimo Laboratorio Quindi le 6 Ok Quindi Andiamo A prendercelo Quindi c'è ancora Un pezzettino Dice Si sarebbe potuto Usare questo approccio Anche sul file APJS Però Non è stato fatto Sì Allora Andiamo a vedere Sì Non l'apro Col viso studio Altrimenti Dunque C'è la soluzione Cerchiamo la soluzione Quindi Lab 6 Mi diceva La classe Filter Quindi Immagino Qui Filter JS Quindi client Quindi questo è il codice Che gira sul client Quindi Qui ha detto Ha fatto una classe Filter E ha messo dentro Dei metodi Ok Quindi ci sono solo Dei metodi In realtà Non c'è Non c'è Alcun stato No E invece Per API Non c'è una classe Ci sono delle funzioni No Questa è la domanda La ripeto anche un po' Per far capire il contesto A tutti Oltre che per Ricordarmi come abbiamo fatto E In realtà Diciamo che Visto così Onestamente Si può fare Diciamo Come uno Come uno desidera Nel senso che Certo Anche sull'API EJS Si poteva fare La stessa cosa Cioè fare la classe E fare i metodi All'interno della classe Diciamo che Forse In filter Mi verrebbe da dire Che Ma questo è proprio Una speculazione Nel senso Parlando Diciamo Di quello che Si potrebbe Poi fare Estendendo Estendendo Il progetto Perché Per come è fatto È finito Non è che Ci sono le funzioni Da una parte Si è deciso Di organizzare In una classe Che non ha Alcuna informazione Diciamo Sua Quindi Nel dis Diciamo così Non ha niente E non è istanziata E nell'altra Si è deciso Di mantenere Come modulo Quindi Non c'è Non c'è Poi particolare Differenza Nell'utilizzo Diciamo che Magari In un filter Se un giorno Volessi Inserire Un qualche stato Per esempio Ricordarmi Come funzionava Il filter E quindi Che filter Erano attivi E se una classe Lo faccio In maniera Un po' più facile Perché Metto L'informazione Intanto Crea un oggetto Quindi ci aggiungo Un costruttore Metto l'informazione Nel dis Relativa A quello che voglio Mantenere Nei filtri E E poi Posso Utilizzare Dei metodi Diciamo Su questo Oggetto Che avrò creato Allora a questo punto Nel codice Che usa I filt Le funzioni Dei filtri E E E Questi Potranno Avere Accesso Al fatto Che Non so Prima c'era Un certo Filtro Attivato E poi È stato Disattivato Ce ne sono Più di Uno Attivi E così Via Quindi Questa Mi sembra L'unica Ragione Plausibile Per avere Un approccio Con una Classe Per le funzioni Dei filtri Mentre No Per Diciamo La cosa Delle API Che sono Sostanzialmente Stateless Per lo meno Per come L'abbiamo visto In questo Momento Nel senso Che Stateless Nel senso Del client Nel senso Che fanno Una richiesta Con una fetch E punto Finito Lì Avrà Ritornerà Quello che Ritornerà Successo Error Eccetera Però È finito Lì Quindi È più Una questione Di organizzare Una serie Di funzioni Che non Volevamo Mantenerci Nel File JS Principale Perché Quando il file Diventa grande Ci dà fastidio Avere Troppe Funzioni Troppo Codice E diventa Non manutenibile Pensate Sempre Al Diciamo Anche Non solo A questi Esempietti Didattici Che ci fanno Diciamo Prendere Familiarità Con le Varie Tecnologie Che andiamo A spiegare Javascript Piuttosto che React Eccetera Un unico File Finché Siete Voi Che ci Lavorate Siete Una Persona Va Benissimo Nel momento In cui Lo mettiamo Su un sistema Come git O altri Sistemi Di gestione Dei file Centralizzati E siamo In più Persona A lavorare Sullo stesso Progetto Se lavoriamo Sullo stesso File Prima o poi Succede Che qualcuno Fa una Modifica Non compatibile A quella Di qualcun Altro Se invece C'è uno Che so Che si occupa Della questione Di filtri E l'altro Si occupa Della questione Dell'interfaccia Chiaro Che bisogna Parlarsi Però intanto Lavorano Su due File Differenti E' Molto più Difficile Che succedano Dei problemi Quindi Questo è Il motivo Per cui Vogliamo Usare Bene le cose Praticamente Perché nel momento In cui Andrete a Lavorare In un Posto In cui Siete insieme Ad altri Chiaramente Ognuno Può occuparsi Di parti Specifiche Quando Quindi Il vostro Collega Dice Mi ponevo Il problema Se creare La classe Filter O meno E si Non c'è Una risposta Nel senso Che Appunto E questa È un po' È un po' Una filosofia Di come Se vuole sviluppare L'applicazione Voglio sviluppare L'applicazione Oggetti O no Javascript Mi consente Di fare Entrambe Le cose È un po' Come C++ C++ Volete Usare Gli oggetti Li usate Non li volete Usare Non li usate Funziona Lo stesso È una questione Di come Vogliamo Organizzare Il codice Tendenzialmente Si preferisce Una soluzione A oggetti Ma perché Nel momento in cui Dobbiamo mantenere Degli stati Stati intendo Questa volta Non quelli di React Ma stato Nel senso di qualcosa Collegato alla funzione Che stiamo Creando Per esempio Appunto I filtri Eccetera L'approccio A oggetti Ci sembra Diciamo Più pulito E più ragionevole Perché mantiene L'informazione Localmente Nel Nel posto Dove poi serve Le funzioni Che andiamo Ad utilizzare Però Nulla vieta Di usare Un approccio Alternativo Anzi Spesso capita Che uno Dice No ma È una cosa piccola Ma lasciamo Per Cosa mi creo Un oggetto Apposta Per fare Queste cose Poi magari Il progetto Si ingrandisce E a un certo punto Si fa Una riorganizzazione Del codice E quindi Dico Vabbè Allora A questo punto La faccenda Si sta complicando Mi creo l'oggetto Perché così Mi mantengo L'informazione Vicino alle funzioni Gestibile alle funzioni La faccio Gestire solo A certe funzioni Così creo Un'interfaccia Per gestire Quell'informazione E così via Però queste sono Sono questioni Di programmazione Che sono Diciamo Sono generiche Non si applicano Solamente Al nostro corso Ai nostri progetti Javascript Eccetera Sono proprio In generale Che voi state realizzando Un'applicazione In C++ Piuttosto che In java Eccetera Avete Gli stressi Problemi Dove metto L'informazione Dove la mantengo Quali oggetti Crei Quali gerarchie Creo E così via Javascript Non tanto Gerarchie No L'editarietà Eccetera E' limitata In questo senso Però anche nei progetti Generali Non è che si usi Tantissimo Piuttosto si Eredita Come facciamo noi Da oggetti pronti Che forniscono Dei metodi Come React component Come Classi Fatte apposta Per fare Quest'operazione E tutto il resto E' una questione Di decidere voi Come organizzare Il codice Cioè Succede Ed è normale Che succeda Che organizziamo Il codice In una maniera E poi a un certo punto Ci accorgiamo Ma se avessimo Fatto l'oggetto Era meglio Oppure Abbiamo fatto l'oggetto E poi ci accorgiamo Ma accorgiamo Ma questo oggetto Alla fine non serve a niente Quindi Adesso Questa cosa Che mi ha fatto notare Dei filtri In realtà Sì Diciamo che E' neutra Da questo punto di vista Perché appunto Abbiamo fatto una classe Che in realtà Serve a niente Al più Ci dobbiamo mettere il nome Davanti al metodo Quando chiamiamo Quando chiamiamo Il metodo Ecco Però In questo momento Effettivamente Serve a niente Pensando in prospettiva Forse potrebbe servire Forse quello che ha pensato Che Alberto Che è quello che ha sviluppato La soluzione E me l'ha messo online Quindi Sono Sono trade off Di 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 programmazione Come sempre Dobbiamo cercare Di capire Qualcosa Cosa ci conviene fare Prego E non c'è una risposta Giusta E' un po' come Adesso Sembra una battuta Però Fare i ponti Ci metto Dieci Dieci pilastri più piccoli O cinque pilastri più grandi Forse quello che costa meno Però Magari Non so Ci sono anche Alla fine È sempre un ponte Alla fine Ci passate sempre sopra Bisogna avere Non so Considerazioni Differenti Cerca di pensare Non so Al futuro Ma Ci metto Dieci pilastri Magari Poi è più brutto Un giorno che bisogna Costruirci la strada sotto Non si può Troppo stretto Troppo pilastro L'altro Non lo so In ogni In ogni Diciamo In ogni momento In cui Prendete delle scelte Progettuali L'importante È essere Abbastanza coscienti Dei vantaggi e svantaggi E poi Non è che c'è la risposta giusta In un contesto Diciamo così Forse Aziendale O di lavoro Una delle linee guida Che vi può aiutare Costa meno Ci metto meno tempo A svilupparla Eccetera Però bisogna anche Non esagerare In questo senso Perché Risparmiare oggi Per avere poi Più problemi domani Come sempre Non è detto Che sia la soluzione Migliore E' un po' Questa sensibilità Che imparate Spero Nel momento in cui Imparate a sviluppare Un progetto Informatico Nel vostro corso di laurea Di ingegneria informatica Ok Ovviamente sono qui A disposizione Per Eventuali domande Poi non dobbiamo Per forza stare online Un'ora e mezza Come fa il corso in inglese Se non avete più domande Possiamo liberare tutti Ah ecco No c'è 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 una domanda Ok Allora Anzi ce ne sono due Dunque Rispiegare Poi arriva la seconda domanda Del Chiaramento di teoria Rispiegare quando è utile Creare un componente react Con una classe Quando con una funzione Allora Al momento Siccome Non sappiamo Fare altro Con i componenti Con le funzioni Sostanzialmente I componenti con le funzioni Li facciamo Quando questi sono semplici Non devono mantenere uno stato No Perché? Perché non abbiamo Un modo Di fargli mantenere lo stato Andiamo a vedere La 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 slide Quindi Abbiamo Componenti Ecco No Componenti come funzioni In questo momento Non hanno La possibilità Di gestire lo stato Perché Ci serve un meccanismo Che non abbiamo Ancora visto E quindi Sostanzialmente Siamo anche Un po' Forzati Ad usarli Solo nel momento In cui L'unica cosa Che dobbiamo fare È ritornare Degli oggetti Che sono Anzi Degli elementi Degli elementi React Che poi Sono Gli elementi HTML Che dipendono Solamente Dalle proprietà Perché è l'unico Parametro Che ricevevamo Nella funzione Tra l'altro La funzione Deve essere pura Ovviamente Non deve Mantenere Lo stato Però Nel momento In cui Riceviamo Un unico Parametro E abbiamo Solo la funzione Basta che Non creiamo Clojure Strane E questo Si verifica Naturalmente Le classi Invece Le usiamo Tutte le volte Che abbiamo La necessità Di fare Qualcosa Di più Complicato Quindi Abbiamo Necessità Di mantenere Informazione Localmente Oppure Creare Una seconda Funzione Dovrebbero Eserci Gli esempi Quindi Dove è andato No Perché mi è andato Ah perché schiacciavo Il page Ok Quindi Ecco Nel momento In cui dobbiamo Inserire uno stato In questo momento Non possiamo Far altro Che usare La classe Per creare Il componente Oppure Non ricordo Se ci sono C'è Sulla slide C'è Ecco Quando Quando Abbiamo Da creare Le handler Per esempio Le handler Del click Che deve essere Una funzione Che va a modificare Lo stato Dobbiamo Farlo All'interno Della classe Cioè qui Adesso nel codice Non si vede Ma qui intorno C'è il class Con il componente Che vogliamo Noi Il constructor Che imposta Lo stato iniziale C'è C'è quello Quello della slide Precedente C'è questo pezzo No? Relate component This state Render E poi dopo E poi dopo C'è Anche la possibilità Di inserire Altre funzioni All'interno Della classe Quindi questo È quello Che ci guida In questo momento Nello scegliere Un componente Implementato Come classe Piuttosto che Implementato Come funzione Siamo bloccati Per i componenti Tipo funzione A Usarli solo Per I componenti Che Fanno vedere qualcosa Sotto forma di Di qualcosa Che dipende Dalle properties Dalle props Poi più avanti Verso la fine Del corso Vedremo Che sostanzialmente È Indifferente Però abbiamo bisogno Di conoscere Questo meccanismo Ulteriore Che non abbiamo Ancora visto Quindi Un event listener Che in linea generale Modifica Lo stato Di un componente Ci costringe A usare le classi Si Per ora Si Lo scrivo Anche qui Per ora Si Per ora Si Ok Per ora Si E poi Appunto Con gli ux Cambieremo La cosa Perché appunto La classe Scrivere L'intera classe È un po' Pesante No Quindi Chi Sviluppa React Mano a mano Diciamo Sviluppandola Portandola avanti Introduce Anche Qualcosa Che si vede Che è utile Nel processo Nell'utilizzo In pratica Del framework È un po' Come l'HTML5 Cioè Tutti questi Living standard Nel momento In cui si vede Che ci sono Delle funzionalità Che stanno Diventando utili Lo standard Si adatta E questo vale Anche un po' Per i framework E così via Ok Leggo La domanda Precedente Vorrei chiedere Un chiarimento Rispetto alla teoria Vista la scorsa settimana Non ho ben capito Quali siano i vantaggi In termini di parallelismo Dell'avere un approccio Che segue Delle azioni Nella den Della fetch Come in questo caso Rispetto A Cons promises Ok Quindi Avevamo Quell'approccio Delle promises Eseguiti in parallelo E poi avevamo Il promise all Ok Come scrive qui Che Ci va A Caricare Le risorse Con la fetch In parallelo Quindi Svolgendo poi Tutte le elaborazioni Nel promise all Quindi Quando tutte le fetch Sono concluse Ecco La Il primo caso Non favorirebbe Un maggiore parallelismo Nel primo caso Le azioni Non si svolgono direttamente Quando finiscono Le singole Fetch Nel primo caso Le azioni Si svolgono Quando sono finite Tutte Tutte le fetch E hanno caricato Tutto il contenuto Perché La promise Del primo caso Cioè di questo Si risolve Si risolve Solamente Quando abbiamo ricevuto Tutto il contenuto Della fetch Questa è la singola fetch No poi ne abbiamo tante Va bene Però per la singola fetch Tutto è risolto Come promise Solamente nel momento In cui abbiamo caricato Tutto il contenuto Ok Se invece Se invece Mettiamo come promise Da attendere Solamente Il fatto che la fetch Ci dia Una promise Risolta O rigettata Se è risolta Se è risolta La promise Della fetch È risolta Nel momento in cui Inizia a ricevere Qualcosa Dal server Che sia Nello stato 200 Ok 404 Non si fa Nel momento in cui Inizia a ricevere Qualcosa La promise Della fetch Si risolve Ok Non è che attende Che tutto sia caricato Perché poi Dobbiamo decidere Noi come gestire Il body Quindi nel momento In cui noi facciamo Promise All Sulla prima Promise Stiamo attendendo Che tutte le fetch Ovviamente Si siano risolte Cioè abbiano avuto Un codice di risposta Dal server Però Siccome abbiamo messo Di andare a prendere Il body E di convertircelo Tutto In questo caso Test Ma potevamo avere Json O qualsiasi altra cosa Stiamo attendendo Che tutte le promise Che tutte le fetch Abbiano caricato Tutto il contenuto Ok Nel secondo caso Invece Stiamo solo attendendo Che le fetch Abbiano Avuto Una risposta iniziale Dal server Ma se una di queste Fetch Dovesse scaricare 100 megabyte Di roba No E le altre Sono più veloci Perché non so Magari interrogano Un API rest Che risponde subito E così via Nel primo caso Attendiamo Che tutte Abbiano finito Di scaricare Tutto Quindi Prima di iniziare A processare Una qualsiasi Dei contenuti Caricati Dalla fetch Scritto In questa maniera Dobbiamo attendere Che abbia finito Anche quella Che scarica 100 mega Perché altrimenti C'è una promise Che non è ancora Risolta Che è quella Della fetch Che deve Caricare il body Di 100 mega Nel secondo caso Invece Abbiamo Che Tutte le fetch Sono risolte Perché tutte Hanno ricevuto Una risposta Iniziale Dal server E quindi Possiamo decidere Come andare A processare L'informazione E possiamo Cominciare A processare Le fetch Che hanno Che ci servono Come scrivevamo Sulle slide Di più Nella nostra applicazione E' chiaro Che se La prima cosa Che ci serve E andare A processare La risposta Della fetch Che ci carica 100 mega Non cambia niente Scriverlo Come sopra Come sotto Però Se nel nostro Nel caso Della nostra applicazione Ci serve Cominciare A lavorare Da una Fetch Che carica Pochi dati E che quindi Ha già risolto Il caricamento Dell'intero body Possiamo Iniziare A farlo Ed è per quello Che nelle slide Scrivevamo Se non ricordo male Poi L'applicazione Decide In quale ordine Andare a processare Le fetch Risolte Sono tutte risolte Le fetch Nel secondo caso Cioè Tutte cominciano A caricare Qualcosa Del server Però Vengono processate Nell'ordine In cui Servono All'applicazione Cosicché Non appena C'è il dato Che serve L'applicazione In quel momento Disponibile Se è tutto caricato Si può procedere E infatti Fanno Fanno poi La den Sul contenuto Con Quello che Vogliamo andare a fare All'interno Dell'applicazione Che sia Json Che sia Text Che sia Quello che vogliamo Quindi Quindi Poi Nell'esempio Forse è meglio Che lo vada A prendere Nell'esempio Abbiamo Messo Un for Chiaramente Con un for Se mettiamo Un for Nel processamento Che va in ordine Senza tenere in conto Dell'ordine Dell'applicazione Non cambia niente Però Se mettiamo Cioè Se processiamo Le fetch Nell'ordine Che serve All'applicazione Potremmo avere Un vantaggio Dunque Snides Era browser Se non sbaglio Perché si è scanciata La condivisione Adesso Ricondivido Vabbè Mi è sparito Ho fatto Un piccolo Pasticcio Ok Allora Share Ok Queste sono Le fetch Ecco Queste sono Le fetch Quindi Ehm Quindi Quello a cui fa Riferimento Il vostro collega Era questo No? Primo caso Vogliamo risolvere Vogliamo una fetch Che venga risolta Nel momento in cui Tutto il body È stato caricato E allora Vabbè E allora Qui possiamo processare I body Nell'ordine Che ci vogliamo Non fa niente Perché tanto Sono già stati Tutti caricati Nel secondo caso Abbiamo la sola fetch Abbiamo la sola fetch E quindi Qui Possiamo processare I dati Secondo l'ordine Necessario L'applicazione Qui c'è di nuovo Un for Ma in realtà Questo for Non dovrebbe essere Cioè Qui Potrebbe anche Non essere un for Mettiamo che ci sono Tre risorse E noi sappiamo Che ci serve Prima una Poi la seconda Poi la terza E E E Qui Possiamo Sostanzialmente Andare a Processare I dati Nell'ordine In cui Riteniamo Opportuno Per l'applicazione Questo è proprio Solo un esempio Per far vedere Che poi bisognava Ancora fare Den No? Però Qui avremmo potuto Fare tutto quello Che volevamo noi No? Nel senso Che in questo momento Possiamo fare Il den E andare A richiamare Il codice Che vogliamo All'interno Della nostra Applicazione Sulla Promise Che vogliamo noi Che non è necessariamente In ordine 1, 2, 3 E attenderemo Di fare il den Sulla Promise Successiva Perché L'applicazione Decide che Gli serve Conoscere Prima Il risultato Della Della Promise Che corrisponde Alla richiesta Precedente Però è deciso Dall'applicazione In questo caso Mi rendo conto Che è una È una differenza Un po' sottile No? Però Era tanto Per fare Un po' di pratica Con i ragionamenti Anche Della Fetch Il den Ho le promise In parallelo Un'altra cosa Che non abbiamo Che forse avremmo potuto Inserire È Nel momento in cui Vogliamo andare a caricare Una serie Di elementi Per esempio Che so Capitoli di un libro Ognuno con una Fetch Che è un altro esempio Classico Come fare A Andare avanti Non appena abbiamo I capitoli Disponibili No? E quindi Sostanzialmente Se volete Lanciare tutte le Fetch Poi anziché Usare il promisole Fare Un for Che va davanti Nel momento in cui Arrivano i capitoli E solamente Nel momento in cui I capitoli precedenti Sono arrivati Va avanti Il successivo Questo è un altro Esempio Diciamo Interessante Che forse avremmo potuto Aggiungere Però non è difficile Da creare Qui non serve più La promisole Perché voglio andare avanti Un pezzettino alla volta Però serve Gestire le promis Dentro un for Che di nuovo È un po' Macchinoso Per esempio In quel caso Potreste provare A usare La wait A wait Anziché Il den Perché se usate Il den Non avete più Il controllo Su quando Vengono chiamate Le callback Ok Non è facile La programmazione Asincrone Quindi Anzi Chiedete pure Magari Potrà anche Succedere Che da qualche parte Ci sbagliamo Perché La programmazione Asincrona Come la programmazione Concorrente È sempre Complicata Ed è molto Soggetta Soggetta Ad errori Di programmazione Bisogna sempre Fare molta attenzione Ok Però Mi sembra Che Di aver risposto Alla Alla domanda Scrive Grazie per il chiarimento Se avete Se avete altri Dubbio Domande Quindi fate Fate pure Per esempio Potreste provare A fare A fare Questo Piccolo Esempietto Che vi dicevo Tanto per far Pratica Con le promise Definire Che sono Tre promise Che sono Che si risolvono A tempi differenti Quindi sostanzialmente Dentro hanno Una set timeout Che fa Resolve A istanti di tempo Differenti Che sono Un secondo Due secondi Tre secondi Poi prendete Queste promise Le mettete Dentro un array Le fate Le fate lanciare Quindi Anzi scusate Non le mettete Dentro un array Sì le mantenete Da qualche parte In un array Però Non vanno lanciate Nel senso che Nel momento in cui Vengono create La promise Diciamo Ha già Ha impostato Su set timeout E mettete Il tutto In un for Che vada Avanti Su queste promise Facendo la wait E Vi dica Ogni volta Che cosa è arrivato Nel momento in cui Mettete Che so Le promise Con scadenza Un secondo Due secondi Tre secondi Le scorrete In quell'ordine lì Con la wait Ovviamente avrete Che so Fate un console log Per stampare Avrete Tic 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 No Un secondo Due secondi Tre secondi E vi viene fuori La prima promise Seconda promise Terza promise Cambiate l'ordine E mettete Che so Prima la promise Più veloce Poi quella più lenta E poi quella intermedia E dovreste vedere Che il for Va avanti Sulla prima Poi si blocca E si blocca E si blocca In attesa Della seconda Che è quella Però più lenta E poi Una volta che Si sblocca Dalla seconda Fa wait Sulla terza Che è già arrivata E quindi va avanti E così Fate un po' Di pratica Diciamo Con Con le promise E vi rendete conto Di come funziona E vi rendete conto Anche che Questo è Diciamo Un esercizio Così A parte Indipendente Da tutto il resto Un esercizio Di javascript E puro Ok Guarda se ci sono Altre domande Sulla chat Se non ci sono Dubbio domande Possiamo anche Diciamo Finire La virtual Crassum Non c'è nessun Problema Tanto come dicevamo Non è che Non è una lezione La possibilità Di avere risposta Ad eventuali domande Riguardo a tutto Quello che abbiamo visto Finora nel corso E anche il futuro Per quanto lo conosciamo Quindi Il programma E così via Non vedo Non vedo Ulteriori domande Se volete anche Farle a voce Questo nel laboratorio Forse finora Non è mai successo Forse solo una volta Ma Nel laboratorio L'altra volta Qualcuno Ha fatto Le domande a voce Ed in effetti È stato anche comodo Una domanda Una domanda sul labset Se possibile Certo Certo Possiamo anche Parlare del laboratorio Ovviamente Non è che dobbiamo Aspettare Il laboratorio Siamo qui Quindi Intanto lo apro Così Che come vedete È forse uno Dei più brevi In realtà Ci sono un po' Di cose Da fare Quindi Bisogna rifare Un pezzo Meglio Il frontend Con i componenti React Senza niente Che funzioni Quindi Nessun bottone Che funzioni Come abbiamo fatto L'esempio Che abbiamo messo Online Ieri Magari Senza arrivare A questa Complessità Diciamo Nei componenti Però Provando a usare Qualche componente Ok Possiamo Provare A vedere Come Decomporlo Quindi La domanda È questa Sì Diciamo Fa parte Dell'esercizio Nel senso Che Chiaramente Sì Per capire Come imbastire Il lavoro Certo Io vi Come sempre Ho la soluzione Che il nostro Collega Alberto Cortesemente Cerca di produrre Sempre in fretta E possiamo andare A scuriosare Cosa ha fatto Dunque Ovviamente C'è l'app E nell'app Dunque lui ha fatto Una cartella GS Nell'app Lui l'ha strutturata Con Una navbar La navbar Direi che Sicuramente Da tenere Da parte Perché la navbar È un componente A se stante Un po' Per definizione Perché avrà All'interno Al suo interno Altri componenti Che ci serviranno A realizzare Varie funzionalità Che sono Una case In futuro Pensando sempre Ad un'applicazione Di tipo Molto generale Quindi Che so Vabbè In questo caso No Qui I filtri Li ho messi Nella site Diciamo Nella navbar Potrebbe esserci Il login Il bottone Per fare il login Potrebbe esserci Una casellina Per fare le ricerche Potrebbe esserci Non so Qualcos'altro Che ci serve A gestire L'interazione Col sito E così via Poi lui Qui ha fatto La side L'ha lasciato In html Quindi qui Di nuovo Vedete voi Forse inizialmente Si possono lasciare I filtri Da parte Forse per me Avrei provato A fare un componente Anche nei filtri Però Diciamo Dobbiamo anche Limitarci Nel senso Che non vogliamo Neanche che i laboratori Si trasformino In una cosa Che dura Dieci ore E poi Sicuramente Ecco La to do list Questa Deve essere Per forza Un componente Su questo Non ci piove Perché È quella Che gestisce I nostri dati E quindi Sarà un contenitore Alla quale Diamo i task E che però Dovrà gestire I I vari item Quindi le varie righe Che sono Come nel nostro esempio Erano gli esami Qui saranno I task Quindi Questa è La struttura Che ha dato Alberto Una soluzione La navbar La navbar Non ha niente Di particolare Praticamente Codice HTML Professor Corno Aveva messo Da parte Questi svg In delle variabili In delle variabili Da parte Un po' Per chiarezza Ma insomma Fate un po' Vedete un po' Voi E' sempre la questione Di come Come uno vuole Vuole organizzare Il suo codice Quando diventa Inleggibile Vuol dire Che è ora Di mettere Un po' D'ordine E quindi Di spostare Delle cose fuori In delle variabili E così via Potete tranquillamente Assegnare queste cose A delle variabili Questo è JSX Nel momento in cui Siamo dentro React Fate import React E poi JSX Funziona Quindi Potete tranquillamente Fare appunto L'assegnamento Delle variabili Anche di pezzi Diciamo così Codice HTML Anche se poi Alla fine JSX E dunque Task Task è stata Implementata Come Come classe Ed è anche Ragionevole Se ci pensate No Perché Nel task Un po' Come abbiamo fatto Nel nostro esempio Terremo L'informazione Relativa I task Nel momento in cui Aggiungiamo un task Andrà a finire lì E così via Noi di nuovo Come nel nostro esempio Prendiamo i task Dall'app No Quindi dall'app Abbiamo questa variabile Fissa Adesso Fate finta di non aver visto UserState Che gli abbiamo detto Di toglierlo Però Sostanzialmente C'è una variabile Che contiene I task Iniziali Che Inizialmente In questo laboratorio La fissiamo nel javascript Ma poi Andremo a caricarlo Dal server Con le API REST Che già Conosciamo Però Facciamo un pezzo alla volta Se no Appunto Diventa laboratori Troppo Impegnativi E quindi Nel task Adesso qui Non si vede nel codice Ma nel task Sarebbe bene Avere poi Contenere L'informazione Dei task Che in prima Battuta Potreste pensare Di mettere come property Quindi come props Però Come avete visto Nell'esempio Che vi abbiamo fornito E poi informazione Che cambierà Sulla base Dell'interazione Che abbiamo Nell'applicazione E quindi Sarebbe meglio Metterla come stato No Come abbiamo visto Nel Nel codice Dell'esempio Che adesso Vi vado ad aprire Duplicandola Abbiamo In React Scores React Scores Abbiamo Erano Exam Components E abbiamo Ecco This state Exams Prop exam E qui ci saranno I tasks Quindi questa è la stessa cosa E qui abbiamo L'exam table L'abbiamo messo dentro L'exam table E lì Presumibilmente Dentro una classe Task Task table Se vi piace di più Task list Non lo so Beh in realtà No Ha fatto poi Un to do list Che Forse Fa una cosa Differente C'è sicuramente L'item Io vi consiglio Sempre di avere L'item Questo si Perché Perché l'item È quello che Visualizza L'elemento No Quindi questo È abbastanza Imprescindibile Riceverà le proprietà Le proprietà Che sono sostanzialmente Quelle Del task No Questo è solo Sintassi javascript Non è niente Di react E andiamo Adesso arrivo Sulla chat Andiamo a Scompattare Diciamo Tutte le properties E le assegniamo A task Così ce l'abbiamo Direttamente In task Punto qualcosa Se no Dovevamo fare Props Punto task Punto id Props Punto task Punto importa Funzionava anche Questa è solo Una comodità E ovviamente Sulla base Delle varie Proprietà Che a task Andiamo a Mettere L'iconina Se condiviso Con qualcuno La deadline Se Come la coloriamo E tutte queste Queste faccende Qui E poi Per concludere Dunque Avevamo Task E lui Ha fatto Home Nonostrac No Però in realtà Questo task Questo task In realtà L'ha tenuto Infatti l'ha messo Con la lettera minuscola L'ha tenuto come classe E basta E quindi questo Non è un componente React Infatti Non estende Non estende Da React component E Non ha il metodo Render Quindi in realtà Ho detto Task Ma non c'entrava niente Quindi in app Avrà usato La to do list Quindi in app Infatti c'è la to do list Scusate Perché ho fatto vedere I task In realtà È una normalissima classe Che magari avete anche già E che Che Probabilmente No niente La to do list La to do list Prende Le sue Properties E in realtà Nella properties C'è Tasks No? Il plurale Sono tutti i tasks E si fa il suo map E E qui Richiama questa callback E come aver scritto Potevamo scrivere direttamente Questa funzione Direttamente qui Non cambia niente E fa un to do item Con la sua chiave La chiave avrà ovviamente L'id Che è pari All'id Che ha L'item Nel nostro caso Lo impostiamo a mano Però Lo facciamo Diciamo Lo facciamo Perché ci aspettiamo Che sia un id unico Che ci arrivi Per esempio Da database E così via E poi passiamo Alla proprietà task Che è quella che ci serve Poi a creare il task E decidere come Come impostare La visualizzazione Eccetera Quindi Niente di particolare Una Nord red list E fine Quindi Questa è la struttura Che ci pare più ragionevole Potete ovviamente Venire fuori Con qualsiasi altra cosa Per esempio Anche farla più complicata Come abbiamo fatto noi In quell'esempio Metterci la matitina Per editare il task Metterci la Il cestino Per eliminarlo E così via Però Diciamo Al momento Sono cose in più E visto che non le agganciamo A nessun comportamento In questo momento Diciamo Sono un po' fine a se stesse Ok Quindi Spero di aver dato Un'idea Di come organizzare le cose Ovviamente Ognuno può provare A organizzarle come desidera Fare più componenti Meno componenti Meno di avere Il componente Item E il componente Contenitore Degli item Credo sia impossibile Però Per quanto riguarda Gli altri componenti Siete un po' più liberi Vengo alla Domanda Successiva Come approccio Può essere corretto Allora Solo per concludere Poi Vengo alla domanda Del vostro collega Su CSS Quindi come approccio Può quindi essere corretto Scrivere direttamente I codici HTML JSX Per tutte quelle parti statiche Mentre andare a implementare Classi Per componenti dinamici Per esempio Anche quindi La lista dei progetti Andrebbe creata come Class E così via Sì Andrebbe Diciamo che Chiaramente È il primo laboratorio In cui create i componenti Cercate di crearne Due Piccoli Come Il To do list E il to do item Verificare che funzioni tutto Fare qualche prova Fare qualche cambiamento Delle Proprietà Verificare che funzioni tutto Salvarvi il vostro progetto E poi a quel punto Vi lanciate Diciamo così E se volete Potete farlo anche Per i progetti Ovviamente Avere una list Project item Project list E se volete Anche per i filtri Questo però È più che altro Per far pratica La cosa fondamentale È avere quella dei task Perché sui task Poi ci andiamo a lavorare Poi se Proprio Non mettiamo Tutto Incluso i progetti Eccetera Potremmo avere Già qualcosa di imbastito E un po' funzionante Veniamo alla domanda CSS Che ho già fatto aspettare Troppo Per quanto riguarda CSS Non bisogna più importarli Nell'index HTML Ma basta solamente Fare l'import Nel file JS In cui ci serve No Il CSS Va importato Dice il CSS Questo dell'index CSS CSS No CSS E' importato Diciamo Qui public E' ciò che arriva Al server Web Ah scusate Al client Dal server web E quindi Abbiamo Che il CSS Dovrebbe esserci qua Infatti Qui dobbiamo caricarlo Pensate sempre In termini Di Del browser web Cioè il browser web Riceve questa pagina Per prima cosa Lui fa la richiesta Localhost Localhost Lo manda su index.html Lato server Gli fa una redirect Gliela fa direttamente Il web server Incluso in react Non è express Ma possiamo pensarlo Come quella che abbiamo fatto Con express Con il redirect automatico Su index.html E lui carica Questo index.html E quindi Per avere a disposizione Un CSS Nella pagina Deve averlo caricato qui Infatti In CSS Custom Ci sarà Il CSS Quello che abbiamo Sempre sviluppato Diciamo Nei laboratori precedenti Quello che colora Le checkbox E tutte quelle faccende Quindi E' dentro L'index.html Non possiamo Caricarlo nel JS Cioè il JS E I JS Sono Questa parte Del JS E Diciamo Sono cose Che Sono poi Fatte girare All'interno Del browser E quindi Sono caricate In qualche modo Diciamo così Dal Da react No? Se andiamo a vedere Dovremmo avere Da qualche parte Adesso Adesso Allora Allora Lo farà Nel momento React Lo farà Nel momento In cui serve Comunque Diciamo Questo Questo È un meccanismo Che Diciamo Fa sì Che Tramite React Possiamo andare A manipolare Del contenuto All'interno Della pagina web E quindi Che sostanzialmente Gira All'interno Del browser Non lo vedete Caricato esplicitamente Perché React Avrà un suo Modo Di Fornirglielo Al browser Adesso In questo momento Non Non lo trovo Probabilmente Non è fatto qui Ma sarà Fatto in qualche maniera Ehm Differente Perché Questo Lo fa tutto Da solo Il nostro Creator È Act Act App E quindi In qualche maniera Gli servirà Al browser Qualche cosa Che farà In modo Di dirgli Di caricare Il L'index.js E nell'index.js E nell'index.js Ovviamente Eseguiamo Il codice Però Il codice Che andiamo A eseguire Qui Nell'index.js Quindi Che so Il Non so Navbar Piuttosto che Eccetera Cioè Questa è roba Che viene inserita All'interno Della parte Body E quindi Non siamo più Nella parte Header Di index.html Dove Vogliamo Caricare Il CSS E quindi L'unico posto Per caricare Il CSS È questo qua È l'index.html Che È quello Di default Creato Dal Create.react.app Ma che Non è Intoccabile Per esempio Il titolo L'abbiamo impostato Vogliamo caricare Bootstrap E ce lo Carichiamo Vogliamo caricare Il nostro CSS Ce lo Carichiamo Tipicamente Non tocchiamo La parte Body Perché la parte Body Sostanzialmente La Lasciamo così Lasciamo solo Il punto di ingresso Per Il React E poi Il React Si aggiusterà Diciamo così E Dove In Index.js Andrà a agganciare L'id.root E ci metterà Dentro L'applicazione Ok Quindi Quindi Il CSS È sempre Gestito Nella maniera Tradizionale Non si può gestire In javascript Se abbiamo bisogno Di fare una Micro Modifica Possiamo usare Quello Style No L'avevate visto Eccolo qua Per esempio Quando ha sviluppato Questa soluzione Gli voleva Fare il margine A zero È stato Mettiamola così Pigro Nel senso Che nel suo progetto Non c'è Un CSS Custom Nostro Quindi Non ci troverete Nell'HTML Il load Di quel Custom CSS E allora Un po' per far vedere Come si usa Lo style Un po' perché Così non abbiamo dovuto Scriverci il nostro CSS Ha fatto che mettere Visto che era Una sola Regola CSS Ha fatto che Metterla direttamente Nel tag Però non è certo La soluzione Più mantenibile Però intanto Così vediamo Anche un po' Di cose diverse Ricordatevi La doppia graffa Per esempio Perché abbiamo detto Che il valore Di style È un oggetto La prima graffa Apre il contesto JavaScript In React E la seconda È la graffa Di OnObject Literal JavaScript Tieni occhio A queste doppie graffe E sempre capire Come mai È lo stesso senso Di qua No Quindi La prima graffa Apre il contesto JavaScript E la seconda Crea l'oggetto Ok E se andiamo a cercare Stiamo sicuri Che qui dentro In React Scores Ci sarà Public Avrà l'index Ma come vedete Non c'è il CSS Non c'è il CSS Ha caricato Bootstrap Perché vogliamo avere Lo stile Bootstrap Per esempio Per le tabelle I bottoni Eccetera Però non c'è un CSS Se avessimo avuto La necessità Di avere il nostro CSS Ce lo caricavamo qua Come succede Come succede per il vostro laboratorio Dove volete avere un pezzo di vostro CSS Ok Mi raccomando Pensate sempre bene A Qual è Dove vanno messe le cose Tutto quello che abbiamo visto finora È giusto Nel senso Il CSS È caricato dal browser Quindi Dovrà essere Detto al browser Da qualche parte E glielo diciamo Nel file HTML Principale Che in React È anche l'unico file Che c'è in circolazione Perché tutto il resto È gestito in JavaScript Gestito in JavaScript È come composizione Di elementi del DOM Però Non interveniamo Nella parte di header L'header È mantenuto A parte Ed è Perché Perché tipicamente Non si cambia Nel momento in cui Abbiamo impostato L'header Nella nostra applicazione Forse c'è il titolo Che compare Sulla barra del titolo Del browser Se proprio Volessimo andare a cambiare Qualcosa Però Non c'è nient'altro Da cambiare Fondamentalmente Cioè Ci sono cose Da impostare All'inizio Per tutta l'applicazione Come per esempio Gli stili CSS E così via Ok Ok Se avete Ulteriori domande Ovviamente 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 Sono qui A vostra disposizione Sennò poi c'è Il laboratorio Di domattina Qui ci sarà Come sempre Luigi 8.30 10.10 Su zoom Su zoom Ci sono già i link Online E 10.11.30 Ci sarò io La suddivisione In squadre Diciamo arbitraria L'abbiamo lasciata Fissa Sulla base Sulla base del cognome Vedete voi Insomma Non c'è tutto questo affollamento Onestamente In questi laboratori Online Come forse Potrebbe Anche essere successo Se avessimo i laboratori In presenza Dipende Quindi Se volete Collegarvi una squadra L'altra O entrambe Vedete un po' voi Insomma Noi ci siamo Dobbiamo esserci Per questi laboratori I laboratori Sono Fanno parte Del Dei crediti E quindi Insomma Adesso Tranne che Ci accorgiamo Che proprio Stiamo lì Per due persone Per ogni laboratorio Allora magari Accorpiamo le squadre Ma Se no Insomma Lì ci stiamo Queste sono Queste video chat Sono in più Quindi Non ci sono domande O dubbi E possiamo Anche fermarci Come peraltro Fa il corso In inglese Così avete tempo Abbiamo solo Più un quarto D'ora In ogni caso Quindi Boh Ma direi Se non ci sono Dubbi o domande Possiamo anche Fermarci Così anche Chi ci rivede A A Anche meno Da vedere Ok Però Mi sembra Che le domande Fossero Diciamo Abbastanza Pertinenti E Interessanti Anche un po' Per tutti No Per esempio Css Ben chiarito Come organizzare I componenti Eccetera Quindi avete anche Un punto di partenza Per sviluppare Le cose Domani Ovviamente Ovviamente È una proposta Se domani Venite con un'altra idea Sentitevi liberi Di proporla Di discuterla E così via Ok Allora Anzi Scusate La video chat Il laboratorio Domani E comunque C'è sempre Il gruppo Slack Se avete necessità In generale Potete anche Provare a chiedere Li Ovviamente Qui la risposta È immediata E sul gruppo Sarà Un pochino Ritardata Va bene Grazie a tutti E Ci vediamo Domani Ok Grazie Stop